Presentato a Palazzo Ricce la presenza del Governatore delle Marche Ceriscioli, dell'Assessore Sciapichetti e del Direttore dell'Area Vasta 3 Maccioni, Karima Health Care, il programma pluriennale di donazioni sanitarie all'Area Vasta 3 per un totale di 2 milioni di euro. Il piano, che sarà attivato nel biennio 2019-2020, si fonda su una progettualità coerente e condivisa con i vertici dell'Azienda Sanitaria Unica Regionale e prevede la donazione di 16 strumentazioni mediche di ultima generazione a 5 presidi ospedalieri della provincia di Macerata, Camerino, Civitanova, Macerata, Recanati e San Severino Marche. La fondazione Karima, precisa la presidente Rosaria del Balzo Ruiti, si pone sul territorio con un approccio diverso, non più come realtà erogatrice di risorse, ma come raccoglitore di istanze. La grande soddisfazione di questo progetto, l'Health Care Karima, è proprio per il modo diverso di aver concepito la donazione, non un'erogazione su richiesta. Questo era un po' il modus operandi della vecchia fondazione, una fondazione sicuramente più forte da un punto di vista economico. Quindi l'aver ridimensionato le risorse economiche hanno fatto sì che il nostro modo di procedere cambiasse. Un monitoraggio delle esigenze del territorio, sinergie con gli interlocutori. Non siamo più soltanto pronti a ricevere richieste dai medici, dai responsabili delle unità operative, o anche dalle semplici associazioni. No, cerchiamo di fare prima un reale esame delle necessità. Poi ci si mette a tavolino con i vertici delle istituzioni e si cerca insieme di capire quali sono le ottimizzazioni di donazioni da poter rivolgere a un territorio che tanto ne ha bisogno. Pianificazione, pianificazione ottimale. Quindi non lasciamo le macchine che poi rimangono lì veramente, che non entrano in rete con tutto il resto dei macchinari dell'Asur, oppure alla fine finiscono ad invecchiare da qualche parte senza essere utilizzati. Completamento di progetti. Noi abbiamo fatto tutta l'emodinamica macerata. C'era bisogno di qualche cosa. Completiamo i progetti. Rendiamo tutto nel massimo dell'efficienza. Non più solo erogatori, dunque, ma anche protagonisti per questo dialogo sul territorio. Mi piace usare l'espressione che siamo diventati dei raccoglitori di istanze del territorio. Le esaminiamo, le facciamo nostre, le metabolizziamo, le verifichiamo e insieme costruiamo progetti. Quindi non una fondazione meramente erogatrice, ma una fondazione che progetta per un territorio.